Maestro, ho preparato un prodotto. Un prodotto, sì. Primo, non piacere. Non chiudere, se muoiamo qui. Dicevo? Sì. Un lontano giorno Io tu sorriso Per quel sorriso Occe mia fanciulla M'ascolta Il tuo signore Sarato noi Forse sora il mondo La nostra è Guardando l'unico Guardo il cuore Occe mia con te Ma il suo Ma il suo 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 che non cade che non sorride più che non sorride più bene, la cultura è un po' calante ho un po' passaggio fammi l'ultima frase no, l'ultima frase no, l'ultima frase del desilio no del desilio Bene! La rea aperta, sì. Bene! Peresiviano ci sei un'esplata, questo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non sono messi a fuoco, sono più aggoggiati, più aggoggiati. Più aggoggiati. È gridata la nota, non è concentrata. Quindi più concentrata, non così larga. Più aggoggiata come, no? Ah, ok, ok. Capitamente. Di poco. Quando vai su il colore, per le colore, no? Sì. O più a fuoco? Più a fuoco, più a fuoco. Più a fuoco. Ah. Si, si ricorda. Quando andava su, non si sfocava. Non si sfocava la voce. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a fuoco. Che c'è? Buongiorno a fuoco. Ma per sé, grazie. Perché più larga è, e più devi aggoggiare. E per esempio, una scuola molto più profe. Sì. Anche, anche, si può aiutare la sillabazione. Dele, si, io, a dolcissi. A dolcissi. A dolcissi. E allora ti dà la possibilità. Mi va articolare. A dolcissi, sillabazione. Va bene. Dele, si, io, a dolcissi. A lui le strade. Sì. Dele, si, io, a dolcissi. A lui le strade. Questo, 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 questo. pensiero. Non ho fatto apposizione. MIτέivo. Mi mammo di te. È guard framework. Mi ha chiamato il tuo Thereforeno dell'Empra. Allora. Andry, pallonare, Ire colorful di Gnale, Earlo sorriti. E Queensborough, a son mi 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 studiare studi si si studiare a e mio maestro si chiamano malio Rocky è che è maestro è e Bravo! Il tuo maestro oggi chi è? Adesso solo musicalmente sto studiando. No, ma la voce è importante. Sì, sto cercando. La voce è importante. Un consiglio per il popoletto. No, è un consiglio molto difficile. Chi sa insegnare oggi la voce? Nessuno? Per i soprani, ho sentito per esempio la Maria Agresta, che è fantastica. Già lei, qualche po' grandi consigli ha dato la capaiglanzca. Ma era il soprano. Forse sono soprano da consigliare di loro. Non lo so. Buon appetito!